Per non perderti nessun contenuto su questo canale ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Reazione. Quest'oggi ragazzi sono qui per andare a reagire a due particolari hack che in realtà appartengono a Pokémon Horus ma che ho scelto perché secondo me questi due Pokémon di cui andremo a vedere le Mega Evoluzioni che tanto lo sapete già scritto nel titolo sono due Pokémon che avrebbero potuto sicuramente ottenere una Mega Evoluzione anche nei titoli di settima generazione per i vari motivi che vi andrò a spiegare nel mentre che vedremo i video. Prima di iniziare però vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace soprattutto perché in questo periodo il canale è in calo perché sono usciti Pokémon Ultra Solo Ultraluna e nessuno si caga a YouTube per giocare Pokémon Ultra Solo Ultraluna. Bella lì! Quindi mi raccomando un mi piace e un commento qui sotto facendovi sapere che cosa ne pensate dei video che andremo a vedere quest'oggi io direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e di iniziare subitissimo con il primo video perché sì non ve l'ho detto sono due però sono corti. Ok nel mentre sono passati tipo tre giorni perché sono stato interrotto prima di registrare la reaction. Comunque adesso andiamo. Vai col video. Ok ragazzi siamo qui con la prima Mega Evoluzione che è quella ragazzi di Flygon. Voi sapete no? I meme che ci sono stati sulla Mega di Flygon che non è mai arrivata e quindi oggi andiamo a vedere come potrebbe essere la Mega di Flygon. Quindi eccolo qua ovviamente trovate il video originale in descrizione nelle schede se no sarebbe freebooting. Quindi mi raccomando andateli a vedere perché è importante comunque anche sostenere queste persone che ci portano questi contenuti alle quali poi posso avere le azioni incredibili attenzione. Cos'è? Sembra tipo fatto con i Lego. Ci avete presente? Tipo quando c'erano i modellini delle cose da fare con i Lego. È tipo squadrettato. È stato fatto tipo a righello. Tipo i lavori di tecnica delle scuole medie. Uguale cazzo. Identico. Poi aspetta. Datemi un'inquadratura affrontale perché io non vorrei essere... Perché c'hai le ali? Ragazzi gli ha montato le ali storte. Cos'è sta roba? Gli ha montate così. Aspettate. Tipo così. Così. È come se io avessi le braccia montate così. Così. Cioè così. Così. Bello. Bello. Bello Flygon. Mi dispiace. Probabilmente ha ricevuto una malattia grave. Genetica. Malattia grave genetica. Che l'ha portato ad avere le ali storte. Obiettivamente sono... Dai è sbagliatissima sta cosa. Poi il contorno è fatto male. T'ho sgamato. Perché? Cos'è sta cosa? Che poi sembra letteralmente fatto proprio... Cioè tipo... Ha montato tipo modelli tipo l'IKEA. Tipo l'IKEA. Adesso chiamo l'IKEA per rimetterlo a posto. Che magari mi butta fuori anche dal mondiale di Pokémon. Non si sa mai. Si svedesi. Beh bello pochina che... Anche pochina. Squate la testa perché dice che cazzo è sta merda. Lui così fa. Che così fa. Ecco vai. Squatimi di nuovo la testa pochina. Perché è veramente una roba del genere. Io ovviamente raga queste mega non le vedo prima di fare la reaction. Se no eh. Non sarebbe una reaction. Non sapevo fosse... Cioè obiettivamente mi fa cagare. Ok. Mi fa cagare. Ovviamente ragazzi vi invito a rispondere nel sondaggio in alto a destra per votare la migliore mega. Però vi spoilereste quella dopo. Però sti cazzi tanto è miniatura. La vedete. Quindi va... Ok. Minchia questa qua devo bipparlo. Vabbè. Ehm. Ottimo. Allora abbiamo Flygon selvatico. Giusto per avere un po' di fantasia. E a livello 20... E a livello 99. Quindi questi... Questa mega è... Non è accata. Vera. Ehm. La... Il gioco ufficiale. Si vede. Ehm. Ok. Perfetto. Il cambiamento è abissale. Hashtag che cazzo dice. È identico praticamente. Che poi... Che poi mi sto chiedendo. In realtà non è che cambi molto il Pokémon. Viene solo tipo... Ehm. Seghettato con la... Con la carta vetrata. Viene limato con la carta vetrata. E tipo cambia leggermente il colore. Diventa un colore tipo... Tipo... Tipo Po. Tipo il Po. Tipo il Tever. Quella acquetta schifosa radioattiva. E... Penso che tu sia di tipo metallo. Però non lo so. Cos'è sta mossa raga? Cosa dovrebbe essere tipo una mossa di tipo drago? Non lo so. Non è super efficace. Aiuto. Mi sono perso. Mi sono letteralmente perso. Penso che sia di tipo drago metallo. Ora non lo voglio sapere. Però in teoria Flygon io lo vorrei di tipo coleotero. Se gli devo fare una mega. Perché cazzo è una libellua. Puoi non fare una mega di un Pokémon libellula di tipo coleotero. Già dovevi farci il Pokémon normale. Mannaggia. Ok ragazzi. Eccoci qua con la seconda. Che come vi avevo già detto. Che cazzo appena ha visto. Ma perché sto spasmo celebrale di Arceus? Ma cos'è? Ma a parte che Regigigas non sta nell'inquadratura. Vabbè avrete capito. La mega evoluzione è quella di Regigigas signori. Quindi. Allora. Adesso andiamo a vederla. Perché io ho sinceramente paura fisica. Di quello che potrei vedere. Perché la super pozione di Regigigas reagisce al mega bracciale? Da quando Regigigas si mega evolve? Da quando si mega evolve con una super pozione? Con... Cos'è? Dai! Ma perché è diventato Super Saiyan? Cos'è sta cosa? Raga ha raggiunto il livello culmine del Super Saiyan. Il livello ancestrale raga. Dragon Ball Super proprio levati. Tendenza vaffanculo. Ma chi sei? Allora ci spugli sul suo piede. Ma tipo che ha fatto il bagno nello zafferano sta cosa. È tipo terrificante. E poi c'è questi capelli qua da Super Saiyan. Cioè è interessantissimo comunque. Io non ti dico niente. Va bene così. Fai veramente quello che vuoi. Però almeno questo qua mi sembra fatto decentemente. Cioè nel senso... E poi è Super Saiyan è storto e... Così. Così. Andiamo in giro così. Andiamo in giro così. Ti hanno insegnato che il corpo va tenuto tale. E non deve diventare praticamente una... Una blob schifosa. Tu dovresti essere il Pokémon che trascina i continenti. Dovresti essere un Pokémon forte. Io non commento su questo Arceus. Che tra l'altro abbiamo già visto ragazzi. Però tipo... C'ha... C'ha l'Ebola veramente. È bello. Gli hai fatto... Gli hai fatto davvero malissimo figliolo. Gli hai fatto davvero un male cane. Però raga allora questo qua... Tipo... Che vuoi sembra anche la cresta di Tapu Koko. Cioè io ho difficoltà. Ho difficoltà psicologica a identificare questo Pokémon. È un Super Saiyan o è Tapu Koko? Probabilmente è una loro fusione. È Tapu Gigas. È Tapu Gigas. È... È... Super Tapu Gigas. Ce l'abbiamo il nome raga. L'abbiamo trovato. Super Tapu Gigas. Perché... Perché dobbiamo trovare un miscuglio di cose. Perché un Super Saiyan è tipo... C'ha la cresta del Tapu. Ed è Gigas. E quindi... Oppure... Regi Super Tapu. Tapu Regi Super. Regi Super Tapu. Non lo so. Sparatemi. Vi prego. Cosa sta facendo. Questa qua... Questa qua è lo sputo di vino. Cos'è sta roba qua? Così. Si utilizza così quella mossa raga. Non ve l'ho mai detto. Si utilizza così. Di Dio. Io devo smettere di fare questi video. Veramente. Bene ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando. Se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace. Un commento in iscrizione al canale. Se non siete ancora iscritti. Mi raccomando. Rispondete nel sondaggio. In alto a destra. Dicendomi qual è stata tra le due mega evoluzioni che abbiamo visto. Quella che vi è piaciuta di più. E magari motivate la vostra risposta nei commenti. Inoltre ragazzi. Mi invito a passare dai social. In particolare da Instagram. Per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale. E per contenuti esclusivi. E a premere la campanella. Per ricevere ogni giorno i feed. Detto già ragazzi. Noi ci becchiamo. In un prossimo video. In un prossimo video. In un prossimo video. Grazie.